La Gymnal, attiva da 40 anni nel territorio, riparte con i corsi di ginnastica ritmica, danza, hip-hop e baby dance. Sono già aperte le iscrizioni per i corsi che partiranno il 14 settembre in tutto il territorio di Pesaro, Gradara, Gabice, Cattolica, Vallefoglia, Sant'Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro. Le nostre attività sono rivolte a bambini e ragazzi di tutte le età a partire da 3 anni. Informazioni su orari, corsi e sedi sul sito www.gymnalpesaro.it Gymnal, con noi nel cuore della ritmica e della danza.